Wahey Kooj, benvenuti in questo nuovo video, sono Andralink91 e oggi siamo su Snack World Andremo nella Grotta Marinara, affronteremo il Cacca Lamaro e riporteremo l'ordine nella nostra vita finalmente E consegneremo anche la crema speciale alla Principessa Melonia Intanto ero qui per vedere gli snack tascabili E Calderone, che è quello che ho preso appunto per offscreen nelle missioni secondarie Mi sembra abbastanza forte E quindi insomma direi di mettere lui in squadra Anche a potere magico, è più forte, ha più forza, ha meno difesa e difesa magica ma preferisco mettere lui Allora direi di andare, anzi no, prima di andare in missione veramente Vorrei andare al supermercato perché ho almeno un coupon da poter usare per la pesca Beh vediamo un po' che ci dà L'ho scaricato appunto dal network perché è possibile fare un download a settimana credo, una cosa del genere E ti danno appunto qualcosa di particolare Quinto premio Stella, ES, cavoli Mica male, mica male Butta la via Ho controllato anche la jarra nuova che ho trovato ma non era il caso Ok, mega premio, spada tigrata Questa mi sembra figa Livello 2 poi la spada Quindi direi di provare a prenderla Livello missione 14 Potrei farcela Ci provo Ok, va bene Oh sì Voilà, solo per voi Posso evitare di baciarli ogni volta? Grazie ragazzi Ok Link Adesso troviamo il caccalamaro Fate i bravi ora Ciao, ciao Ciao anche a voi, eh Via Grazie, grazie Mille grazie, sì Ciao Ciao, ciao, ciao Ok, quindi non si può andare di qua Ok, va bene Infatti ecco appunto abbiamo il nostro amico Questo è troppo bello però Guardalo Mi verrebbe da fare di grattini sotto al mentro Che quanto è bello Eh vecchio Gov Non ti insegni le basi della battaglia Vatte via, va Per favore Sono abbastanza acculturato Il caccalamaro deve essere qui da qualche parte Certamente Aiuto, devo cambiare arma Wow, 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 wow Pugnale, pugnale, pugnalazzo Pugnalazzo Ok Aspetta Ah no, di là mi vedeva Ok Pensavo che era lì Dovrebbe di prendere qualcosa Ma cos'ha questa Oh, attenzione Pignocchio Che cosa c'è qui? Abbiamo una grande selezione di prodotti Fa vedere Ah Scetro ametista Forza Giara Cento Però costa Devo vendere Spada Zampino Argento Ma devo vendere Mamma mia Quanto costa Certe cose Ma che è? E non posso Comprare nulla Torna presto A spendere Ma cos' Ma sei pazzo? Dai su Combatti Ma no lì Qui Mannaggia Allora Per favore Non ci sto No Oi Caricati Caricati Ma che No 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 Doppia Ma che succede? Caccola maledetta Capp Ma è morto No Capp Ah è vivo È vivo Capp No c'è a te Tutta colpa tua Lo so Ho visto Che colpa tua Vai via Mamma mia ragazzi Ci stanno massacrando Cos'è quel punto Rosso Ehi Cos'è che Ah ma Si potrebbe andare Di qua No forse Non si può Eh sto usando Le cure ragazzi Perché è difficile Ah questi si rompono Bene C'è niente No È davvero difficile Ragazzi Non me l'aspettavo L'avevo anche vista La trappola A dire il vero Eh Però Non so perché Ho comunque pestato La trappola Alla fine Vabbè Ho fatto un piccolo sbaglio Un po' di grana Bene Ci voleva Cosa succede qui Eh ma che situazione Comunque sia Me la sto cavando Abbastanza Male Un'aria mortale Eh no Cos'è Wow Che fa Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Oh Cavoli No Non è possibile Così Oh è passato Un po' di tempo E finalmente Sono pronto Ad affrontare La missione Del cacca Lamaro L'avevo già iniziata Ho perso Clamorosamente E quindi Dopo essermi allenato Aver raggiunto Un bel livello Aver potenziato L'armatura Ma Avendo poi scoperto Che in realtà Ce n'era una più forte E mi conveniva Potenziare quella Cosa che non ho fatto Purtroppo Ehm Insomma Sono pronto ora Dai Ci sta Ci siamo Ho Sì Questa scena Non mi Non mi stancherò mai Di vederla Invece sì Ho cambiato Snack Ne ho presi alcuni Ma l'ho cambiato E ho messo Il Diavoletto Che mi accompagna Perché è molto Più utile Appunto Degli altri Che avevo già provato Quindi Siamo carichi Ho potenziato Anche il brand Cioè il brand Là Il ricostituente Che mi fa recuperare Più punti salute Insomma Ho potenziato Anche le armi E sono prontissimo Ad affrontare Tutto quello Che Questo dungeon Ci può tirare E a quanto pari Io prendo ancora Tantissimi danni Perché faccio schifo Evidentemente Allora Vediamo un po' Sinceramente Non so Quale è La strada Da prendere Wow Che fai Che fai Ma come ci arriva A prendermi Mannaggia Oh Ti blocca L'attacco Quando lo prepari È un Giuna Rottura Quando ti bloccano L'attacco In quel Eh sì Vabbè però Cosa abbiamo Qui Niente Non lasciano Scampo Vai Quadriclope Mannaggia Te E chi Ti ha Creato Allora Devo trovare Dei pulsanti Forse Come appunto Anche Le altre Si cambia Arma Non Questa Ecco Molto Meglio Salgo Di livello Aiuto Ok Perfetto Sono al 18 Sperando Che basti Devo trovare I pulsanti Bene Questo è Uno A posto Aperto E per fortuna Il livello Ti ricarica La salute E se non lo usavo Era meglio Mi sto rendendo conto Che effettivamente Era meglio Se non lo usavo Visto che appunto Sono salito Ero molto vicino A salire di livello Quindi No aiuto Questo Questo è cattivo Naggia a te E a chi ti Ha fatto venire qui Vai Per fortuna Questi aiutano Ho anche reclutato Maciodonia Insomma L'ho reclutata Quindi anche lei Potrei portare In missione Vai Attacco pesante Crepa Bene Ho altri Due Mamma mia Questo Aspetta 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 Morto Con un attacco Buono Questa cosa Richiede Oddio Pingete Andata Non mi ha preso Bene Ha fatto l'attacco Ma non ha sortito Alcun effetto Ah qui è la porta Bene Ma via per il prossimo piano Sarà un dungeon A due pia Sì A volte tipo Devi uccidere un certo numero Di mostri Per salire di livello Altre volte Devi premere i bottoni È casuale Anche perché tu Non lo sai Quello che devi fare Fino a che non entri Nel livello Quindi Cioè Se ti dicessero Guarda Devi sconfiggere Un certo numero Oppure devi premere Tot bottoni Tu dici Ah ok Ce lo so Ce lo so È molto meglio Ah qui per il prossimo piano Ma dai Proprio l'unico punto Che non ho controllato Era quello che portava A piano successivo Cavoli Però ripensarci Guarda Mi manca poco Per fare il livello Vabbè C'è il cacca Lamaro Non so cosa Gli faccia male Però Bella la presentazione Ok Ah la lancia Che fa Questo Sì Grazie Proprio preciso Scusami Si 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 nasconde Aspetta un po Noise 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 Si può respingere queste No A quanto pare Non si possono respingere Sì Senti Però mi ero spostato Io Eh Ma non è per Non è per dire Però mi sarei spostato Proprio lì Devi mirare Guarda che pezzente Ok Avvocato Genio Dai Genio Su Che cavolo fai Non fa nulla Il genio Mannaggia Canta la canzone Non so cosa faccia E questo è il problema Non so cosa fa Dai abbiamo fatto ragazzi È fatta Su È fatto È fatto Bello però Ha visto C'è anche tipo Le cose conficcate in testa Forte Cos'è questo Questo è morto qui Malissimo Mi dispiace per lui Il framerate Che fa un po' il birichino In effetti Questo gioco In dock È fastidiosissimo No in dock In portatile In modalità portatile È fastidioso Perché va a scatti A volte Sembra che salti Un frame Invece In docked Va abbastanza pulito Grado 3 Quindi ora posso Accettare missioni Più difficili Il mega premium Mi interesserebbe Perché sarebbe Una spada forte Però abbiamo Un anel Un elmo Più che un anello Mi sembra Che sarà molto utile Credo Perfetto Perché ho visto anche Anello vaniglia Anello Resistenza alla nausea E con un pf Se vieni messo K una volta Molto utile Molto utile Lo userò sicuramente Bene bene Abbiamo completato Anche questa missione E secondo capitolo Onnipotente Ci sei mancato Ehi da dove Spuntate voi altri Beh non riusciamo A resistere Quindi vi abbiamo Seguiti E magari una mano Ci avrebbe fatto schifo Però E c'è anche La vostra Beyoncé Renn Beyoncé Renn Tipo Quella cantante Coreana Ciao a tutti Non so voi Ma io sono qui Per la crema Nia No nia È un Gbanyan È diventato È arrabbiato Permettimi Di tradurre I mostri Super Mario Ehi la amici Come state Come come state Con quale voce Wow Non mi aspettavo Che un caccalamaro Parlasse così Dora e poi Beyoncé Renneseguirà L'interpretazione Simultanea Del caccalamaro Tipo appunto Le serie tv Americane Che vengono Tradotte in contemporanea Onnipotente Questi nostri amici Vorrebbero la tua Tu sai cosa Cosa Non di nuovo Certo che voi Omani Avete delle manie Molto strane O sbaglio E va bene Vediamo se Riesco a crearne Un po' È tutto pronto Tritoni Crearne Un po' Si riesce A fare la popò Si deve reggere Facciamo un omaggio Alla crema E da tanto Su crema Facciamo un omaggio Così il miracolo Averrà Ancora più forte Nella tazza Sacra Ancora più forte Nella tazza Sacra L'offerta È quasi Pronta Il mondo L'acclamerà È tempo Di portare Gioia Alla vita Non è che Appena Non ci credo Io sì Si chiama Caccanel Tu che dici Sirena Ma stai scherzando La crema Idratante Estrema Caccanel Numero Cinque In realtà È Sì Però Censurata Cioè Dai Fa più brutto Sì È cacca Che poi Scusami Non ci insurano Caccanel Ma ci insurano Cacca E poi Cioè Il testo È questo Che desidera La principessa Melonia Su tutto Il suo corpo Ma Ma Credo Che per questa Volta Passerò Peggio Dello Schetto Ragazzi E non Cercate Schetto Vi prego Sapete Quando uno Vi dice Non cercate Questa cosa Su google E ve la cercate Perché dite Ah Fa veramente Schifo Quello che Vi chiedo È Non cercate Schetto Proprio Ha a che fare Con la cacca Quindi avete Già capito Dove vado a parare Ok Non cercatelo È peggio Della coprofaggia Molto peggio Link Ciao Ho sentito Che ha avuto Successo Principessa I miei omaggi Le porgo La reale Cacca Oh miei eroi Era proprio quello Che mi serviva Un po' di Di Cacca sul corpo Ah ma Principessa Melonia Credo proprio Che non dovresti usarla Cosa E perché No Ah Beh Perché Lascia l'onore a te Link È proprio La numero Due Link Non puoi dire Cose del genere Reali Spero che Non abbia sentito Io sarei andato Direttamente a mer Capito Cioè Che cosa hai detto Non ho capito Oh no No Niente È che La tua pelle È già così Morbida Soffice Di seta Ma non ti piacerebbe Di più Se fosse ancora più Morbida Soffice Di seta Non ti piacerebbe Sì E allora guarda Ti dimostrerò Quanto posso diventare Perfetta E vado in bagno A spalmarmi Questa crema Su tutto il corpo Tutto il tuo corpo La cacca del calamaro Su tutto Il tuo Non ce la faccio Non ci riesco No In effetti Non è una bella immagine Così finisce Finisce così Va bene Kug Per questo video Allora è tutto Io come sempre Vi ringrazio Per averlo seguito Dopo questa Bella esperienza Di cacca Direi Che L'avventura Può proseguire Ad ogni modo Io vi ricordo Che in descrizione C'è il link Per Instagram Dove pubblico Tutti quanti Gli aggiornamenti E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi Ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Bye bye Ma non sono salito Di livello Ma che schifo Ok Ciao